Potente appare ragazzi, qua Max è oggi, oh my god, oggi come vi vedete benvenire, non siamo da soli, e invece si perchè siamo solo noi due enti soprannaturali, ci stanno osservando, quindi non siamo da soli, comunque oggi siamo qui a presentarvi un video Potete appare, ma così c'è 58, proprio cose senza senso, un video poi fa la sua intro, fa niente, un video speciale, perchè in un macello di voi, ma veramente una cosa imbarazzante, mi hanno chiesto di provare questo sito e dato che anche un altro youtuber, mio collega l'ha fatto, ho deciso di contattare direttamente i creatori e di farmi dare anche un codice sconto Questo codice sconto è Axel99, non ho idea del perchè del 99, non chiedetelo, non lo so neanche io, comunque cosa consiste su un po' questo sito, praticamente andrà a fare un pack opening sul sito, e nella quale ci sono pacchetti specialissimi Come potete vedere abbiamo altri, un man of the mac, man of the mac, McDonald's, siamo appena stati, man of the mac, man of the mac, man of the mac, the mac, fuck, nella quale sicuramente dovrete un man of the mac, quale lo dovrete andare a scoprire Però è importante dire che potete trovare un man of the mac che anche è già uscito e passato, tipo magari Sergio Ramos Nel triplo inform pack, troverete tre inform, ma tre inform che possono anche essere già passati, quindi c'è anche la probabilità di trovare Cristiano Ronaldo, come anche tutti gli altri inform che sono già usciti Io direi di iniziare con lo special pack, ti piace lo special pack? Massimo Lo facciamo? Allora per comprarlo, allora dobbiamo fare buy now, e ci dobbiamo, abbiamo un discount code che è, come ho già detto, Axel99 Una volta fatto ciò dovrete o registrarti compilando il modulo sulla destra, oppure loginare in registrando il modulo sulla sinistra Noi logheremo in e ci sentiamo tra benissimo Una volta fatto ciò, vi starete rindirizzati su questa pagina, lo sconto è stato applicato e pagherete, in questo caso Skrill, quindi pagherete O Skrill Dopo aver pagato, riceverete nella vostra email, che cosa? Il codice da utilizzare per aprire i pacchetti Come vedete vi è, ci è arrivata l'email, in questo caso, your code is, andiamo a copiarlo ed incollarlo dove? Andate su redeem, vicino ad our packs, e una volta essere andati su, 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 e arriva la gente su Skype Su redeem, metterete il vostro codice e andiamo a claimarlo Andiamo a claimarlo E andiamo a claimarlo Pli selecta contro Avete ragione, dobbiamo prima selezionare la console Game pack Hazard! E' dentro l'hazard! 657.000 crediti Oh! Falca hazard Porca troia Sì, è solo quella lì Mai avrebbe stato iniziare così Ed è l'hazard E andiamo avanti Una volta aver fatto ciò, però cosa bisogna fare? Bisogna mettere all'asta un giocatore dalla vostra console, quindi andrete sulla web app Metterete un giocatore all'asta per 3 giorni al prezzo del, al prezzo che vi verrà indicato Quindi in questo caso 657.000 crediti Metterete 3 giorni Metterete anche in vendita e vi basterà aspettare Ovviamente però dovete inserire il nome qua Ad la rete search Club name Dovrete ovviamente inserire il vostro, il nome del vostro club E dovrete aspettare un secondo E ragazzi quindi ci hanno messo anche a basso Cioè pochissimo Meno di 5 minuti Adesso andiamo a prenderne altri Cosa facciamo? Io direi special part Ancora special part Facciamo special part Ci sentiamo Tra pochissimo Come vedete l'hanno già preso Cioè quanto tempo è bastato? 3 o 4 minuti forse Neanche Sadio Alonso venduto a 657.000 E già è arrivato ancora sulla mail Il codice Sempre solito codice Clean back Perché ci scordiamo sempre Dai ora mi schiacci tu Mi schiacci tu adesso Schiaccio io Schiaccia Ecco Hai tolto la roba Clear back No clean Sono dislessico Tiago Silva Chi è? Guerrero Chi è? Ma 300.000 Appena Ma stai scherzando Deludente Chavi Ma Marco 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 Che cos'è? Ma io ti ammazzo Ma gli dai tu i soldi No Infame Intanto mettiamo all'asso un altro giocatore Per prendersi anche questi crediti I soldi Mascherano Non si è passati neanche 2 minuti Che ce l'hanno già preso Mascherano 22,297 E noi continuiamo ancora Perché è rosso Non lo so Adesso Oddio Neymar Neymar Merrino 635.000 Oh mio Neymar Devo aprire i ragazzi Neymar Madonna Neymar Però era in forma Vedi Che maglialata Tecnicamente Ah no Sono le 7.27 Quindi è uscito un nuovo team of the week Esatto Abbiamo messo Müller Attenzione Quindi Thomas Dove è Thomas Thomas E' il Eccolo qua E' qui proprio E c'è il nostro nome dei club E facciamo un team Müller Come vedete Anche Müller Se l'ha preso Andiamo per l'ultimo L'ultimissimo Vediamo Triple o special E vediamo Special Facciamo Buy Pack Discount Come al solito Axel 99 Axel Con 2 Poi ci lunghiamo Ok Paghiamo su Skrill E andiamo ad aprirlo Esatto Andiamo a pagare Guarda Io devo andare un attimo in bagno Fammi Claim Faccio io Io intanto Devo andare in bagno Mi sto Vado Apri Vado Giusto PlayStation Mannaggia La cumbazza Ok Oh Dio Messi Ronaldo 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 Marco Ma stai schizzando Lo sto schizzando Oh mio Dio Oh mio Dio Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Porco Non ci credo Cristiano Ronaldo Oh mio Dio E' la terza volta che lo troviamo con te praticamente Oh mio Dio Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 10.305.000 L'ha piazzato il colpo No Stai rorando 10.000.000 10.000.000 Stai scherzando No Ce li mettiamo in rovina Ce li abbiamo rovinati praticamente Scusami Fa il cao Dai fa il cao proprio per Search Ma non è Ma non è del Monaco C'è qual quadra che non cosa Qual quadra che non Lo prendono Vediamo E' un po' di cos'è Però sai che non sono riuscito a andare in bagno io E' quindi Aspetta un attimo Cristiano Ronaldo Che culo E' voglio la mia parte E' merda La seconda volta Non posso neanche vendere Ce l'ha preso No Guarda ce l'ha preso La seconda volta che lo prendo Cristiano Ronaldo Non posso neanche vendere Non l'ho preso io E andiamo Ma sta registrando Oddio Non ci credo Ragazzi L'ho preso subito Ce l'hanno preso Io No Madonna Io direi Un giveaway Di Un milione Oh Facciamo così No Due milioni Due milioni Give away di due milioni Quindi Per partecipare Cosa facciamo Iscritti al mio canale Iscritti al secondo canale Perchè Rinizio a cliccare il video anche lì Esatto Il link lo trovate in descrizione O Axel V2 Esatto Messo un bel mi piace E niente Sinceramente non pensavo me lo prendessero Ma ci abbiamo guadagnato Undici milioni Link del sito Lo trovate in descrizione E detto questo Io vi saluto Un bel mi piace Noi Vi salutiamo E vi diciamo potente A parlare del prossimo video Ciao a tutti E ragazzi Ho pensato un'altra cosa Innanzitutto Marco Sinci E' andato via da poco Come vedete qua ho sempre il solito taglio Comunque Vi volevo dire una piccola cosa Dato che Alla fine Il video speciale per i 100.000 Non è ancora uscito Ma è in progressing Voi state tranquilli Non me sto scortando Scortando Io non vi ho ancora fatto Una sorta Non dico di regalo Perchè alla fine La cosa più speciale Sarà il video Il video dei 100.000 Però ho pensato di fare questa piccola cosa Dato che alla fine Questi pacchetti Sono riuscito magari ad aprirli Con i soldi guadagnati Che ho fatto In tutto questo tempo Su Youtube Quindi una parte L'ho voluto utilizzare Appunto per fare questo video Ho deciso di fare così Metterò proprio all'asta In un contest Cristiano Ronaldo L'ho fatto Perchè tanto Alla fine Io va bene che non ho bisogno Di crediti Ma magari non così tanti 10 come anche 5 milioni Ora come ora Sono un po' eccessivi Quindi ho deciso di fare così Metterò all'asta O meglio che cavolo dico Metterò in palo In un giveaway Cristiano Ronaldo L'unica cosa Che vi chiedo È di magari dividerlo in più Giveaways Perchè infatti magari Ne farò allora come ho detto Questo da due Poi per gli altri Vi consiglio di andare a vedere Il secondo canale Ne farò magari uno Ogni tre giorni Da un milione Iniziamo con questo qua da due Spero che avrà successo Se non avrà successo Comunque fa niente E lo farò lo stesso Perchè alla fine anche quelle persone Che ci saranno Voglio ringraziarle Le cercherò di ringraziare In questo modo L'unica cosa Ecco che dovete avere playstation Se avete playstation Potete partecipare a questo contest A questo giveaway Anzi facciamo così Se siete su Xbox Questo giveaway A questo giveaway Potete partecipare Potete partecipare Dunque a quello di due milioni Per gli altri Mi sa che farò partecipare È solo quello di play Quindi ragazzi Questo qua È una piccola scelta Che ho dovuto Ho deciso di prendere Appunto per ringraziarvi Mi raccomando Partecipate tanti Per i prossimi Andate sul secondo canale Il link lo trovate in descrizione Magari ce ne è già uno attivo adesso O poco mentre voi state andando sul secondo canale E quindi detto questo Io vi risaluto E vi dico Potenta pace Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti